Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi l'acquisto che ho fatto da Green Stuff World che è un sito dove potete trovare tanto materiale, anche coloranti, da utilizzare sia con la resina sia con il fimo, pasta polimerica, oppure anche in generale per modellismo quindi è veramente una miniera d'oro secondo me questo sito ecco arriva il materiale dentro questa scatola qua tutta colorata adesso la apro e vi faccio vedere cosa ho preso allora ho appena aperto il coperchio e dentro troviamo oh c'è questo sticker molto carino e qui dentro vedo tutte le cose che ho preso, adesso ve le mostro allora tolgo via un po' di queste cominciamo con questo, vedete che è un set di colori acrilici effetto metallico per modellismo e miniature comunque vanno benissimo anche per il fimo e credo anche per la resina e sono questi colori qua cioè bronzo scuro, un bronzo non riesco a tradurre un rame steampunk, gold oro brillante questo che chiamano Eldorado e questo oro antico e penso siano veramente fantastici questi colori non vedo l'ora di provarli devono lasciare proprio un finish bellissimo secondo me poi ho preso un set simile perché sono dei set di colori sempre di tipo metallico acrilici e sono questi qua prima era la versione sul dorato rame mentre questa è proprio la versione argento e c'è il grigio, un altro argento, metallo anthrax non so come tradurlo bianco mistico, blu e un altro grigio che penso siano bellissimi anche questi come colori poi io odoro i metallizzati quindi non vedo l'ora di provarli anche questi poi qui ho preso che non vedo l'ora di utilizzarli sono dei roller con dei disegni adesso ve li mostro questo è l'Atlantis vanno benissimo per il fimo e anche per altre paste polimeriche questo è l'Atlantis purtroppo non si vede bene la bellezza di questo roller bisognerebbe proprio provarlo su pasta polimerica e non appena lo proverò vi metterò qui sopra il link comunque è bellissimo questo è l'Atlantis poi ho preso la versione steampunk che è questo qui vedete con orologi, ingranaggi bellissimo deve essere farò delle prove prestissimo e questo è il dwarven se l'ho pronunciato giusto che se non sbaglio significa nani cioè ricorda l'effetto dei paesaggi dei nani diciamo ed è questo qui che è un effetto secondo me bellissimo poi ho preso queste che non capivo cos'erano ma sono le calamite che ho preso solo che devo aver sbagliato la misura pensavo fossero molto più grandi invece sono proprio minuscole vabbè le userò per qualcosa adesso vi mostro questi alcuni sono coloranti alcuni sono effetti speciali allora cominciavo con questo ed è effetto ruggine una ruggine però di tipo quella ruggine blu che si forma sulle cose industriali diciamo comunque vedete qua c'è scritto turchese ossido turchese e lo proverò su pasta polimerica e quindi vedrete l'effetto questo è lo stesso una ruggine proprio arancio l'ho presa ce n'era anche una mi sembra più chiara o più scura questo è oh questo è bellissimo ho visto l'effetto ed è un liquid frost cioè fa l'effetto proprio cristallini di ghiaccio e penso sia fenomenale vi mostrerò quando lo userò poi questo è un colore metallico della serie di quelli che vi ho mostrato prima e questo è un blu nettuno che non era compreso in nessun kit e quindi l'ho preso separatamente questo lo stesso è un metallico ed è turchese acqua questi due invece sono effetto sangue e sono dei rossi bellissimi questo è sangue liquido diciamo e questo è sangue coagulato e non vedo l'ora di provarli anche questi bene come vi ho detto questo sito ha delle cose bellissime non vedo l'ora di provarle tutte spero questo video vi sia stato utile fatemi sapere nei commenti quale di queste vorreste che io provassi per primi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.